Per quanto riguarda le arteriopatie periferiche, che come dicevo rappresentano gran parte dell'attività di un chirurgo vascolare, c'è stato un enorme cambiamento negli ultimi decenni e questo è stato merito dell'introduzione delle tecniche endovascolari che hanno via via affiancato e poi via via tolto spazio al trattamento chirurgico, che non è scomparso completamente, ancora oggi si fanno rivascolarizzazioni chirurgiche, ma diciamo che sono state in larga parte soppiantate dalle tecniche endovascolari che hanno enormi vantaggi perché naturalmente in questi pazienti che sono pazienti estremamente fragili, estremamente critici, poter utilizzare delle tecniche poco invasive rispetto alle tecniche invece estremamente invasive che sono quelle chirurgiche che comporta dei vantaggi molto visibili sia da parte del paziente che anche da parte della gestione post-operatoria.